Ciao raga, allora come state? Spero bene, allora nuovo video di presentazione, stavolta sarà più corto che mai, se riesco, perché io parlo troppo, però dettagli Allora, questo vuole essere un video dove vi dico già che ho cancellato tutti i miei contenuti, perché il mio canale purtroppo aveva già violato parecchie volte il copyright quindi all'ultimo reclamo mi è stato un po' detto, oh cancellino, vabbè adesso non sto qua a spiegare, comunque praticamente il mio canale è andato a picco, ovvero scemando e quindi ho dovuto rifare tutto a capo, ovvero il canale lo mantengo con lo stesso nome e cognome, il mio vero nome e cognome che mi rispecchia di più di altri nomi però, più la può darsi che cambierò il nome del canale, perché lo farò tra beauty e smr, ma anche pulizia della casa comunque ragazze, non vi preoccupate perché tra beauty e smr, pulizia della casa, poi ginnastica, che ho già fatto più in là, ovvero che ho già fatto prima, poi svuota la spesa e altri, vlog, perché io voglio portare vlog, portare svuota la spesa, vlog, outfit, shopping, shopping di abbigliamento, poi non so, make up, haul di make up spacchettamenti a make up, quello che mi esce, mi esce ragazze challenge non ne faccio perché, non lo so, magari qualche volta capiterà che faccio challenge, ma non ne ho idea vediamo ma mi chiedete fare video di scherzi telefonici, non ne posso fare perché non mi piacciono non li amo tanto, amo vederli, ma non farli io, quindi no poi posso fare per esempio cucina, cucina mi piace molto, quindi li posso anche volentieri fare già vi dico che ho altri canali dove porterò altre recensioni su beauty e voi direte, non è perché lo tiene, cosa lo tiene a fare sto canale lo tengo perché mi è stato costato caro cancellare tutti i contenuti e tutto quello che erano gli iscritti ma pazienza mi dispiace per voi che avete visto zero iscritti al canale, ovvero nessuno iscritto perché ho tolto tutti gli iscritti ma piano piano, aspettate un attimo, scusano, chiudi e quindi praticamente non sono riuscita a... ho violato il copyright voi sapete di cosa sto parlando e quindi niente, non sono riuscita a gestare tutto quindi ho dovuto ripristinare il canale perché non l'ho potuto togliere i contenuti per quanto sta che... mi dispiace, farò una scusa su... mi scuserò con tutti quelli che mi seguono su Instagram ma... ahimè, dovrò ricominciare con gli iscritti da capo pazienza ragazzi, che vi devo dire ho violato le regole di YouTube e mi tocca continuare a rifarlo da capo sperando che sia la volta buona perché stavolta veramente non ne posso più altrimenti continuo con gli altri canali e basta non c'è altra scelta non ho altra alternativa quindi o continuo con questo senza continuare sempre con questo cavolo di violazione delle regole di YouTube oppure provvedo a stare buona senza che già la televisione si sta sentendo in una maniera pazzesca ma ce lo facciamo a bastare, noi stiamo attenti però ribadisco, farò video di cucina se mi riesce perché non lo so farò video del mio compleanno perché mi piacciono un casino ovvero regale di compleanno farò video tag perché i tag sui profumi mi piacciono un botto vuoi video tag per conoscerci meglio già che altri video tag non li ho potuti più fare perché a causa di questo cacchio di copyright si lo so, ho detto già una parola, non devo è come dire altro, però vabbè niente ragazzi, ci vediamo a un prossimo video comunque ragazzi, state tranquille lei mi scuso ancora nuovamente perché ho tolto tutte le... ho cancellato tutto ciò che era... mi ho sudato perché in realtà me li ho sudati questi scritti non li ho acquistati, no 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 le ho sudati e ahimè mi tocca rifare tutto a capo ma con calma e con pazienza e con costanza si arriva a tutto, ok? cioè si arriva piano piano chi va piano va lontano, come si dice non lo so, comunque ho detto già una fesseria molto bene e scusate per la misa ma ragazza sono a casa truccarmi non mi va per adesso magari domani mi vedrete a fare un get ready with me per oggi carico solo il cablea scusate carico solo due video ovvero il video dove faccio fesserie parlo di cose un po' epiche più o meno dico che mi sembra vi dico già perché non si capisce bene in quel video ma ve lo dico lo stesso mi sembra aver visto un fantasma in quel video invece anche no ho sentito i rumori di un fantasma quindi nein non farò tanta ginnastica mi vedrete solo una videoclip di ginnastica e poi in mezzo a quella videoclip farò appunto farò un video che è griccio quindi preparatevi perché ce ne saranno delle belle non farò video sui fantasmi perché io odio queste cose non mi piacciono cioè non è che le odio amo vedere i video di queste robe ma non mi piace avere sul mio canale roba di questo genere vabbè no comment diciamo per te che è meglio farò video di gossip che so che piace tanto il gossip su Barbara D'Urso dirò la mia opinione ma non guarderò molto Barbara D'Urso perché sinceramente è nine non mi va comunque ripetisco farò un sacco di video di ricette e basta skin care skin care porterò molti contenuti di skin care porterò molti contenuti di what's my bag e cosa c'è nel mio telefono anche se il telefono purtroppo dovrò cambiarlo con un altro perché questo non è che voi direte cosa c'è a questo c'è anche così niente ragazze cosa dirvi si potrò tanti contenuti che vedrete non vi dico molto perché se no questo video è scelto a colunco ma vabbè e basta io vi saluto vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo nuovamente in un prossimo video a dopo con un altro format con un altro video ciao ah attimate la campanella ovvero non personalizzata né nessuna ma ben tutte le notifiche in modo se volete non siete obbligate ovviamente che vi arrivano tutte le notifiche di ogni video caricato sul mio canale presto ciao ragazze like o come vuole per tutti voi ma commentino e condividete se vi va i miei video e che mi fate un enorme piacere anche ascoltare i vostri commenti fatemi sapere su tutti i commenti metterò ah vi dico già ad alta voce per non mettere tutto nell'info box you barstol melania chiocciola no aspettate you youtuber melania otto su instagram scusate vi stavo dicendo l'email però comunque e vabbè alla fine scriverò il il come si dice scriverò la tutte le contatti che è meglio facebook melania marxdale e basta a presto ciao ciao